Arriva un nuovo avviso di conclusione delle indagini per il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino. Il provvedimento del PM Gloria Andreoli precisa meglio alcuni aspetti, ma la vicenda è sempre la stessa. Castellino, una volta insediatosi quale sindaco della città del Gattopardo, non avrebbe proseguito con le demolizioni degli immobili giudicati abusivi. Lo stop all'azione delle ruspe, secondo l'accusa, vale al sindaco i reati di falso ideologico, abuso d'ufficio e rifiuto di atti d'ufficio. Una violazione della legge, secondo la tesi accusatoria, per ottenere consensi ai fini elettorali e procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale ai proprietari degli immobili che dovevano essere abbattuti. Dopo la notifica del nuovo avviso, il GUP Francesco Provenzano ha rinviato l'udienza preliminare al 4 ottobre, in modo che la difesa abbia il tempo necessario per visionare i nuovi atti e adottare una strategia processuale. I nuovi capi d'accusa, le nuove indagini, il nuovo avviso di conclusione delle stesse, che si aggiungono alle prime, secondo i difensori di Castellino, gli avvocati Santo Lucia e Vincenzo Lesci, sono indice della precarietà delle indagini che hanno portato all'esercizio dell'azione penale. Per la seconda volta, la procura decide di rinviare per presentare nuova documentazione, sostengono i legali, perché non è stata prodotta precedentemente. Il sindaco Palmese aveva chiesto di essere sentito, volontà che potrebbe essere nuovamente espressa a meno di un cambio di decisione, anche alla luce delle nuove accuse.